Su un tema così delicato che investe davvero i quesiti esistenziali attorno a cui filosofi e giuristi si sono sempre interrogati abbiamo registrato, abbiamo riscontrato in Parlamento un voto che ha visto assieme il PDL, la Lega, l'Udc. Questo non significa politicamente nulla in più rispetto a ciò che ho appena detto in quanto è un consenso solo su questa legge. È una legge che testimonia un approccio assolutamente laico ai problemi da parte del PDL. Noi abbiamo lasciato libertà di voto, nega l'eutanasia e afferma il diritto all'autodeterminazione da parte del paziente e crea anche una procedura che in una qualche misura solleva il medico dalla grande responsabilità di decidere quando, se e come sospendere i trattamenti. Grazie.